Carissimi lettori italiani, sono Luis Prats, l'autore di La bambina dell'isola. La storia che hai tra le mani è inventata. Tutti i personaggi del romanzo sono di fantasia, ma il racconto risvecchia la realtà dell'isola di Lampedusa. Un'isola che negli ultimi vent'anni ha visto arrivare sulle sue spiagge più di 300.000 uomini, donne e bambini che fuggiono dalla guerra e dalla fame in cerca di un mondo migliore. La storia dei camberi mi è stata ispirata da un avvenimento reale che ha per protagonista il signor Pietro Bartolo, il dottor Pietro Bartolo. Dunque nel 2016 è arrivata a Lampedusa una bambina di nove mesi. Si chiamava Fabur ed era orfana. Sua madre era morta negata durante la traversata del Mediterraneo quando il barcone su cui viaggiavano si era rovecciato. Il dottore Pietro Bartolo l'ha ricevuta all'arrivo in porto e ha fatto quello che credeva suo dovere fare. Ha chiesto di adottarla. Come spiega il mesmo dottor Bartolo nella bellissima prefazione che ha scritto per il romanzo. Alla fine il suo desiderio non ha potuto realizzarsi, ma la sua foto insieme a Fabur è stata pubblicata sui giornali e ha fatto il giro del mondo. Il giorno dopo centinaia di famiglie italiane si sono offerte di adottare Fabur. Oggi i suoi genitori adottivi dicono che Fabur è stata un dono del cielo. Questo è il romanzo e questa è la storia inventata per me. Il romanzo vuole riflettere questa realtà e ricordare un detto della gente di mare. I naufraghi si aiutano sempre, altrimenti non potremmo chiamarli esseri umani. Spero che i lettori italiani apprezzino il romanzo. Grazie. Grazie.